Buonasera dal salotto virtuale di TV City continuano i nostri approfondimenti con ospiti in collegamento in streaming con l'intento di informare i nostri telespettatori e di affrontare le svariate tematiche e i svariati risvolti legati all'emergenza sanitaria del covid-19. Questa sera parliamo delle misure per contrastare la crisi messe in atto dalla regione Campania. Lo facciamo con l'ospite che questa sera è in collegamento con noi. Saluto e ringrazio per essere in nostra compagnia la consigliera regionale del Partito Democratico Loredana Raia. Buonasera consigliera. Buonasera a tutti voi, buonasera alla redazione di TV City e buon 25 aprile a tutti i nostri ascoltatori e telespettatori, amici di Facebook, perché credo che oggi sia un 25 aprile particolare. Come ci ricordava Piero Calamandrei, la libertà che per la conquista è stata pagata a caro prezzo dalle donne, gli uomini che hanno pagato con la vita, la conquista della libertà. La libertà è come l'aria, diceva Piero Calamandrei, ti accorgi del suo valore quando ti viene a mancare, quando senti l'asfissia. Quindi buona libertà a tutti, buona festa della liberazione con un valore e un significato importante proprio per l'emergenza legata al coronavirus che stiamo vivendo. Ricordando, celebrando quelle donne e gli uomini, è giusto secondo me ricordare anche tutte le donne e gli uomini che hanno perso la vita a causa di questa pandemia e tutti coloro che sono ancora negli ospedali, nelle terapie intensive a combattere contro questo nemico insidioso e invisibile perché si salvi la loro vita e con in bocca al lupo a tutti. Grazie, prima di entrare nel vivo della trasmissione saluto naturalmente Ciro Gaglione alla regia che ci assiste per ogni eventuale problema tecnico. Lo dicevo in apertura, stasera focalizziamo la nostra attenzione sulle misure messe in atto dalla regione per colpare la crisi, lo ricordiamo lo scorso 7 aprile, la giunta regionale ha approvato questo piano socio-economico con uno stanziamento iniziale di 600 milioni, un fondo che poi è arrivato a 900 milioni. Chi sono i beneficiari, chi sono i destinatari di queste misure e come accedere? Ci sono già diverse misure che sono attive perché sono stati pubblicati i bandi e come dicevi tu Antonella sono più di 900 milioni le risorse messe in campo da regione Campania per fronteggiare questa emergenza socio-economica legata ovviamente all'emergenza anche sanitaria e quindi si lavora su due fronti, tentare di potenziare le nostre strutture ospedaliere così come è stato fatto dal Presidente De Luca e contemporaneamente però dare una mano, cominciare a dare una mano a tutte le categorie sociali che oggi soffrono di grandi difficoltà proprio perché due mesi di fermo hanno acuito difficoltà già pregresse ma hanno generato nuove difficoltà. e se pensiamo che le prime misure, pensiamo al bonus di 2000 euro per esempio dedicato alle micro imprese con un fattorato al di sotto dei 100 mila euro, un bonus che si è aperto già da lunedì 20 aprile e si chiuderà la piattaforma online perché tutte le istanze potranno essere formulate online entro il 30 di aprile. Tenete presente che a ieri sono state già inviate 90.525 domande per un totale di risorse messe a disposizione per questa misura pari a 140 milioni di euro, 90.525 domande di cui 10.450 istanze dirette da parte delle imprese e 8.075 attraverso intermediari. Di queste istanze vi voglio dare già una prima notizia importante, le prime 10.000 sono state già verificate perché si sta lavorando su piani paralleli, intanto vengono inoltrate le istanze e contemporaneamente gli uffici della regione si occupano già di fare le verifiche delle istanze e dunque dei requisiti per poter poi far ricevere quanto prima possibile il beneficio e dunque il bonus ai destinatari e vi dico che nei prossimi giorni cominceranno ad arrivare già i primi bonus per i primi destinatari. Quindi da questo punto di vista si sta cercando veramente di velocizzare quanto più possibile il lavoro di istruttoria. E oltre le piccole imprese? Posso continuare così magari poi mi interrompi tu insomma quando hai bisogno di chiarimenti così provo a dare quante più informazioni possibili che possono essere utili proprio perché di queste misure abbiamo provato a dare larga diffusione ma magari anche attraverso questo momento di confronto possiamo ulteriormente informare quelli che nel dettaglio non avevano ancora ricevuto le informazioni utili per poter partecipare a queste opportunità. Ebbene oltre a queste si è aperta ieri la piattaforma invece dedicata ai liberi professionisti e ai lavoratori autonomi. Anche qui risorse stanziate per 80 milioni di euro per un bonus di mille euro. La domanda sarà possibile inoltrarla da ieri abbiamo detto fino all'otto di maggio alle ore 15 e vi dico che poiché la registrazione era stata già aperta il giorno 22 aprile già il 23 sera 55 mila professionisti si erano già registrati. Quindi questo ci dà esattamente la cifra di qual è il momento di difficoltà che stanno vivendo tante categorie. Questo significa che Regione Campania ha visto giusto quando ha pensato a queste prime misure che ovviamente non coprono le difficoltà di tutte le categorie che stanno soffrendo in questo momento forti criticità. Questa è solo una prima fase e poi magari se ci sarà tempo parleremo anche di quello che potrà essere la fase 2. Poi ci sono aiuti che sono dedicati alle famiglie. Ecco tra i bandi già in essere voglio ricordare quello in scadenza il 27 aprile che è stato prorogato proprio in virtù dell'emergenza coronavirus e che riguarda il sostegno all'affitto per coloro che sono affittuari e riguarda l'anno 2019. Quindi parliamo di appartamenti privati. Domanda che si inoltre su una piattaforma dedicata direttamente dagli interessati. C'è un contributo di 2000 euro. Ripeto la scadenza è il 27 di aprile. Ci sono dei requisiti ben precisi che sono legati comunque sempre a un parametro fisso che è l'ISEE. quindi tutti coloro e la particolarità della piattaforma che abbiamo messo su è tale che chi non ha il requisito non può accedere diciamo all'inoltro della domanda e questo già mi sembra diciamo un buon metodo per poter dare agli istanti la possibilità di comprendere se i requisiti che pensano di possedere sono tali da poter accedere al beneficio. Ed è tanto vero questo che laddove il potenziale beneficiario non dovesse rientrare nei requisiti richiesti via via che ci sono le diverse fasi da completare per l'inoltro queste si arrestano. Contemporaneamente però sempre per quanto riguarda le famiglie e gli affittuari in questo caso c'è coloro che hanno un appartamento infitto abbiamo un'altra misura che è partita proprio ieri di circa 6 milioni e mezzo di euro che riguarda in questo caso un bando di sostegno al fitto per il titolare di contratto di locazione che sosterrà per tre mensilità fino al 50% del canone con un cap quindi con un tetto massimo di euro 750 tutte quelle famiglie che hanno un appartamento infitto e che hanno subito una diminuzione diciamo del valore di affari del volume di affari chiedo scusa per quanto riguarda le imprese i titolari di imprese liberi professionisti lavoratori autonomi o che abbiano nel caso di lavoratori dipendenti avuto una riduzione sulla busta paga in virtù insomma di un ridimensionamento dell'orario di lavoro legato appunto all'emergenza covid 19 o comunque anche una diminuzione di orario di lavoro ecco per fronteggiare questa difficoltà economica nell'immediato regione campania interviene con questa ulteriore misura per gli affittuari con tre mensilità proprio per dare una prima mano concreta e veloce alle persone che si trovano ad avere un appartamento infitto come avverrà l'erogazione di questo bonus avverrà attraverso i comuni quindi tutti i comuni che entro il 12 di maggio faranno pervenire a regione campania quelli che sono coloro che nel proprio comune avranno fatto domanda perché la domanda si farà presso il proprio comune poi saranno i comuni stessi a ricevere l'erogazione dei fondi e quindi poi a distribuirle ai destinatari e anche questa mi sembra una misura molto interessante ma soprattutto concreta e veloce per venire incontro alle esigenze delle famiglie se hai qualche domanda altrimenti io posso continuare grazie innanzitutto per averci illustrato dettagliatamente insomma come a chi sono rivolte queste misure come accedere tuttavia ci sono dei lavoratori come quelli stagionali che sono esclusi al momento allora i lavoratori stagionali intanto sono stati previsti sono stati inseriti nel provvedimento cura italia e ci sono comunque delle misure che riguardano loro noi abbiamo per quanto riguarda il comparto del turismo abbiamo previsto una misura teniamo presente che ci sono alcune misure che sono state già attivate ed esistono dei bandi ovviamente poiché all'inizio vi ho parlato di 900 milioni e passa di euro perché poi questi queste risorse possano arrivare ai destinatari è necessario mettere su delle piattaforme dunque aprire dei bandi di partecipazione per favorire una platea quanto più vasta possibile di destinatari se facessimo tutto e contemporaneamente poi chiaramente sarebbe complicato anche da parte degli uffici poter lavorare come vi ho spiegato prima in contemporanea le pratiche per poter poi materialmente far arrivare questi fondi quindi vi dicevo che al di là del cura italia ci sono anche delle risorse me le sono appuntate perché sono talmente tante le risorse che abbiamo messe in campo che ovviamente tra numeri date e cifre è difficile poter ricordare tutto per quanto su queste misure stiamo lavorando allacremente oramai da molte settimane con il presidente De Luca che ci invita che invita gli uffici a fare presto perché conosce qual è il grado di difficoltà delle famiglie e quindi chiede a tutti di poter velocizzare le procedure stavo andando velocemente a trovare il bonus che riguarda il comparto in particolar modo del turismo non appena lo trovo ve lo dico nel frattempo ecco sono 30 milioni che sono destinati al comparto del turismo e qui chiaramente dovrà essere attivata la misura ad hoc per poter erogare poi questi fondi sempre attraverso un bando abbiamo continuato a focalizzare l'attenzione sulle famiglie sulle famiglie e sulle politiche sociali dunque è lì che abbiamo messo un corposo stanziamento per quanto riguarda le risorse che voglio ricordare sono finanziamenti europei eh FESR compreso eh che riguardano la programmazione duemilaquattordici duemilaventi e per quanto riguarda le famiglie il sostegno alle famiglie abbiamo una misura delle famiglie con figli al di sotto dei quindici anni quattordici milioni di euro con una erogazione di un bonus di euro trecento o di euro cinquecento sempre legata all'isee e questa domanda poiché la piattaforma è già attiva potrà essere inoltrata entro il sette di maggio e questo contributo servirà alle famiglie proprio per venire incontro alle loro esigenze in particolar modo anche all'acquisto di strumenti digitali perché oramai sappiamo eh che eh le scuole sono chiuse e la metodica della didattica a distanza è diventata completamente sostitutiva per i ragazzi e proprio per questo eh si è pensato insomma di venire incontro anche alla necessità di potersi dotare di strumenti che sono oramai necessari per poter seguire le lezioni a distanza che è uno strumento ehm diciamo come opportunità eh e come misura che abbiamo messo in campo anche per quanto riguarda gli studenti universitari anche per loro c'è un contributo di 250 euro proprio per ehm agevolare l'acquisto di strumentazioni utili per la didattica a distanza perché come sappiamo anche i corsi universitari sono stati sospesi e c'è un ulteriore contributo per gli studenti universitari fuori sede che ehm sapete attraverso l'Adisurc possono fruire di alloggi eh per seguire le lezioni presso Atenei che sono lontani dal comune di residenza e proprio per perché non hanno potuto fruire dell'alloggio in quanto sono tornati presso la propria dimora e eh per dare una mano anche a pagare queste rette Regione Campania ha previsto per loro un contributo. Un contributo importante per quanto riguarda le politiche sociali andrà direttamente agli ambiti territoriali. Parliamo di eh dieci milioni di euro che tra lunedì e martedì saranno trasferiti direttamente eh dalla regione ehm e parliamo di una quota parte del fondo povertà agli ambiti territoriali. Quindi parliamo di una un primo stanziamento importante che arriverà direttamente agli ambiti territoriali e poi per quanto riguarda il sostegno di servizi socio assistenziali cento milioni di euro che sono saranno dedicati attraverso sempre gli ambiti territoriali alla disabilità al sostegno alla rete integrata di interventi e servizi sociali all'assistenza alle donne finanziamenti ai centri antiviolenza e dunque parliamo di politiche sociali che vengono ehm in qualche modo coadiuvate da un importante intervento di Regione Campania in un momento difficile come quello che stiamo vivendo. E poi c'è tutto quello che riguarda sempre le famiglie in maniera diretta e anche attraverso gli ambiti territoriali per eh i figli disabili voglio ricordare che le famiglie che hanno un figlio al di sotto dei 15 anni o figli al di sotto dei 15 anni e anche eh in questa fascia di età figli disabili possono cumulare i due bonus perché non sono incompatibili e anche questo insomma credo eh che sia stato fatto in maniera corretta per venire in conto quanto più possibile alle esigenze delle famiglie soprattutto le famiglie che in questo momento sto pensando a quelle che hanno figli disabili e con queste misure eh di contenzione insomma del contagio e quindi restrittive della libertà del movimento di ciascuno di noi ehm proviamo ad immaginare che cosa significa per i genitori che devono assistere figli che hanno una disabilità e che non possono avere le cure riabilitative perché fino a un certo punto i centri sono stati parzialmente riaperti ma ovviamente molto si sta tentando di fare con le cure riabilitative a distanza perché fino a che sarà in vigore il lockdown le famiglie cercano di tutelare i loro figli che soffrono di patologie dunque sono più fragili ehm cercano di tutelarli quanto più è possibile ed evitano anche le uscite eh per andare presso i centri se non sono assolutamente necessari quindi attraverso anche una ehm un'alternativa che abbiamo offerto e in questo caso devo dire che pioniera è stata l'Asla Napoli 3 Sud che in un'interlocuzione che abbiamo avuto già diverse settimane fa con la direzione generale ehm dell'azienda abbiamo chiesto ai neuropsichiatri infantili di poter adottare ehm attraverso ehm metodiche a distanza via Skype, videochiamate o altri strumenti e dispositivi a disposizione eh la possibilità di far risentire la voce dei terapisti eh a quei bambini insomma che avevano interrotto bruscamente quelle cure riabilitative grazie alle quali eh negli anni avevano eh ricevuto benefici ed erano stati realizzati progressi significativi per evitare che si potesse perdere e disperdere tutto si è accelerato proprio per eh tentare di ripristinare anche se con altra modalità questo tipo di terapia a distanza che devo dire insomma da quanto mi raccontano eh sono eh non solo gradite ma eh sono un modo nuovo ecco per eh poter immaginare eh di prendersi in carico questi ragazzi che io amo definire speciali. Consigliera Rai alla fase 2 ormai alle porte la regione campagna lo possiamo dire è stato un modello anche per le altre regioni ora come continuare? Allora come continuare? Intanto sappiamo che tante categorie sono eh rimaste eh diciamo fuori anche da quella che eh da quello che è questo piano importante eh che regione campagna ha messo già in campo e si sta via via eh e sta via via prendendo corpo. Eh nella fase 2 eh devo dire che anche come gruppo perché io appartengo al gruppo consigliare del Partito Democratico e così come già abbiamo fatto per la fase 1 dove tanti dei nostri suggerimenti, sollecitazioni sono stati accolti dal presidente dei Luca e sono diventati parte integrante del piano socio-economico della della prima fase eh anche per la seconda fase abbiamo costruito eh un nostro una nostra iniziativa eh per quanto riguarda le eh ulteriori eh necessarie iniziative che bisogna mettere in campo per far fronte alle esigenze di tante categorie di cittadini. Ebbene abbiamo posto l'accento ehm voglio dire anche quello che in particolar modo ho fatto io ehm su alcuni aspetti. In particolar modo io ho chiesto che eh si potesse riconoscere un un bonus ehm per tutte quelle famiglie che hanno eh avuto eh la perdita di un congiunto e che oggi si trovano in difficoltà economiche perché non hanno va bene ehm la possibilità di ehm rifarsi a redditi che siano diretti oppure indiretti e quindi è giusto che conosciamo anche qualche caso nella nostra eh città eh a qui a Torre del Greco ehm di eh famiglie che addirittura di orfani che sono rimasti orfani di padre e di madre che hanno necessità di essere accompagnati in questa fase di difficoltà. Quindi la possibilità di prevedere un bonus, un sostegno per questi familiari eh credo che sia doveroso da parte di Reggio Le Campania. Un'altra attenzione eh particolare e menzione particolare nei confronti del presidente De Luca l'abbiamo richiesta per quanto riguarda tutto il mondo dello sport e delle ASD, delle associazioni sportive dilettantistiche che in questo momento di fermo stanno eh soffrendo molto e il grido d'allarme che ci arriva da questo comparto e che molti ci raccontano che stanno pensando che questa situazione grave eh che si è venuta a creare eh potrebbe addirittura metterli nella condizione di non riaprire più le attività e quindi stiamo cercando di lavorare eh su due piani paralleli. Un sostegno diretto alle associazioni anche attraverso le federazioni sportive perché abbiamo un'interlocuzione aperta anche con il con i Campania attraverso Franco Porzio che è il consulente di De Luca allo sport e eh quindi un sostegno pensando anche a coloro che sono costretti a pagare i fitti stiamo pensando di differenziare anche eh i tipi di strutture magari quelle che sono eh in in proprietà di eh comuni stiamo cercando di di avviare anche eh delle interlocuzioni con le amministrazioni comunali e poi quello che serve è pensare a una riapertura graduale di queste attività sapendo che eh c'è la necessità ovviamente anche qui di differenziare perché eh ci sono sport di contatto e sport non di contatto ci sono sport all'aperto e sport al chiuso quindi si sta cercando di fare una programmazione con un crono programma eh dove il eh nel quale chiaramente gli elementi fondanti saranno sempre quelli della tutela della salute e dunque di lavorare in sicurezza soprattutto quando si lavora con i bambini però sappiamo quanto è importante soprattutto per i bambini l'attività sportiva stiamo cercando di intervenire sul tema dei trasporti che sarà un altro tema importante perché una volta che avremo allentato le misure di contenzione e quindi non ci sarà più il lockdown sicuramente molte attività riprenderanno ci sarà la necessità degli spostamenti spostamenti che non sempre potranno avvenire con un mezzo di trasporto privato e quindi ci sarà la necessità di riattivare un trasporto pubblico e in sicurezza chiaramente quando parliamo di trasporto su ferro è più semplice per quanto riguarda il trasporto su gomma si sta costruendo va bene un percorso anche qui studiato nei minimi dettagli sempre per preservare quanto più possibile la tutela della salute dei cittadini ovviamente ci stiamo occupando ed io per prima perché mi interessa molto visto il comparto importante che rappresentiamo sotto questo profilo e mi rivolgo in questo particolar modo ai marittimi stiamo pensando anche a loro perché quando saranno finite va bene tutte le misure che riguardano il sostegno al reddito anche questa questione che riguarderà il trasporto marittimo e dunque i lavoratori marittimi diventerà una questione da affrontare mi permetto di dire di petto perché non possiamo permetterci di avere un'altra categoria completamente scoperta e in ginocchio questo varrà per tornare sempre alla questione trasporti anche per il noleggio con conducente perché anche lì abbiamo avuto sollecitazioni dal comparto che ci chiedono di attivare delle misure per poter riprendere questo servizio e quindi con quali regole e con quali tipi poi di indicazioni linee guida che regione campania dovrà necessariamente redigere per poter far attivare nuovamente questi servizi vi potrei raccontare altre n cose perché come voi insomma che siete operatori della comunicazione ben sapete sono tante le difficoltà che stiamo vivendo in questo momento infatti consigliera anche il commercio è in difficoltà nella nostra città abbiamo ricevuto noi numerose segnalazioni di commercianti insomma in difficoltà che invocavano un sostegno un aiuto come pensare poi di rilanciare il commercio le attività produttive assolutamente intanto per quanto riguarda il bonus delle micro imprese abbiamo avuto tante segnalazioni sia da ASCOM da CONF commercio che riguardavano appunto la impossibilità di molti commercianti che seppur in difficoltà non si ritrovavano nei requisiti della soglia al di sotto dei 100 mila euro e se pensiamo che basta avere un negozio con 3 4 dipendenti è chiaro che insomma la quota che noi abbiamo immaginato come primo step per dare una mano alle micro imprese fra cui rientrano chiaramente anche i commercianti è chiaro che questa coperta è sicuramente corta e noi come gruppo del partito democratico abbiamo già scritto al presidente De Luca tra gli interventi che riteniamo prioritari di poter implementare questa misura alzando la soglia per poter allargare la platea dei beneficiari così come credo che anche le amministrazioni locali debbano intervenire per dare una mano ai commercianti relativamente a quelle che sono le imposte da pagare dirette e che sono di pertinenza dei comuni e così come c'era una cosa che ho dimenticato di raccontarvi ma alla quale teniamo molto noi abbiamo chiesto come gruppo del PD di poter allargare la misura che è stata prevista per una platea di 250 mila beneficiari e parlo dei pensionati al minimo percettori di assegno e pensione sociale e di pensione ordinaria e di vecchiaia che parliamo quindi di pensione al di sotto della soglia dei mille euro tutti questi percettori nel numero che vi ho detto prima per il mese di maggio e per il mese di giugno grazie a regione campania riceveranno un adeguamento fino a mille euro del loro assegno mensile di pensione e poiché non esistono solo queste pensioni al di sotto della soglia dei mille euro ma ci sono anche le pensioni di invalidità e le pensioni di reversibilità abbiamo chiesto al presidente De Luca di poter allargare la platea dei beneficiari anche riservando insomma a questi primi esclusi e cioè le pensioni invalidità e di reversibilità questa 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 opportunità perché ritenevamo che fosse giusto non differenziare le categorie visto che la difficoltà è comune grazie consigliera grazie per averci illustrato dettagliatamente tutte le misure di questo piano socio economico della regione campania naturalmente continueremo ad approfondire queste tematiche nelle prossime puntate della nostra trasmissione io eh saluto nuovamente e ringrazio per essere stata in nostra compagnia la consigliera regionale Loredana Raia il nostro eh responsabile tecnico alla regia Ciro Gaidone e grazie a tutta la cortesia attenzione buonasera buonasera